Furgone in fiamme. È lo spettacolo che si è presentato ai vigili del fuoco chiamati per un intervento sulla litorania perbosa. L'incendio del mezzo, sviluppatosi intorno alle 21 in una piazzola, è stato domato da due unità del distaccamento locale di via Napoli. Spente le fiamme, l'area è stata bonificata. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio. Il proprietario ha escluso comunque la possibilità del dolo.